Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Il Drago, una delle creature immaginarie più riconoscibili e famose. In numerosissime saghe fantasy, i draghi giocano un ruolo più o meno importante, a volte come antagonisti, a volte come alleati. In questo nuovo video vi parlerò dei draghi della Terra di Mezzo, insomma dei draghi che compaiono nella sconfinata e meravigliosa letteratura di J.R.R. Tolkien. Prima di iniziare, come di consueto vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. I draghi del leggendarium tolkieniano sono creature antiche e potenti che vissero a cavallo della prima, della seconda e della terza era. Per i meno ferrati nella lore di Tolkien significa che vissero durante tutti gli eventi narrati nel Silmarillion, fino ad arrivare a ciò che accade in Lo Hobbit. La loro genesi è legata al personaggio di Melkor, noto anche come Morgoth, il Valar decaduto, nonché primo signore oscuro. Melkor, determinato a conquistare tutta Arda, possedeva un ampio assortimento di creature al suo servizio, dagli orchi ai temuti Balrog, fino appunto ai draghi che vennero da lui generati. Questo fatto è particolarmente importante, in quanto, di solito, Melkor poteva solo corrompere le altre creature, vedassi appunto gli orchi che sono elfi corrotti dal suo potere oscuro, ma non poteva creare qualcosa da zero. Ciò ha dato adito a varie teorie per spiegare le origini dei draghi. C'è chi li considera dei Maiar incarnati, entità divine minori, oppure delle bestie in qualche modo potenziate dal Signore Oscuro. Ad ogni modo i draghi divennero subito molto temuti da tutti i nemici di Melkor. Ne esistettero di vari tipi e di varie forme. Alcuni possedevano ali per volare, altri invece si muovevano a terra sulle zampe o strisciando, altri sputano fuoco e altri invece no. La loro pelle è in generale molto resistente. Il fuoco dei draghi è capace di sciogliere quasi qualsiasi metallo e materiale, inclusi gli anelli del potere, ad eccezione però dell'unico anello, che, come ben sappiamo, può essere distrutto solo nel fuoco del Monte Fato. I draghi sanno parlare tutte le principali lingue, possono lanciare incantesimi, maledizioni e possono anche ipnotizzare. Inoltre, sono mossi spesso dal desiderio di accumulare grandi tesori, soprattutto oro. Uccidere un drago non è cosa per tutti. Il primo drago che manifestò la sua presenza fu Glaurung il verme. Glaurung non possedeva ali, camminava su quattro zampe ed era capace di sputare fuoco. Glaurung apparve la prima volta durante l'assedio di Angband, la fortezza del Signore Oscuro. Non avevano infatti mai visto una creatura così potente e pericolosa prima di allora. Il verme però non era ancora al massimo del suo potenziale e venne respinto dagli arcieri guidati dal Signore degli Elfi, Fingon. Glaurung, così come altri seguaci del Signor Oscuro, continuò a scatenare la sua furia contro gli Elfi e i loro alleati appartenenti alla stirpe degli uomini. Durante la battaglia delle innumerevoli lacrime, Glaurung, a capo di un gruppo di altri draghi, fece strage di Elfi e uomini. La storia di Glaurung si interconnesse poi con il tragico fato di Turin Turambar. Turin affrontò il drago, armato della sua famosa spada Gurtang, e con essa trafisse Glaurung, svenendo però a contatto con il suo sangue velenoso. Glaurung morì poco dopo. Durante l'assedio della meravigliosa città elfica di Gondolin, Morgoth schierò alcuni temibili draghi serpentiformi, fatti o ricoperti di metallo, che sputavano fuoco. Insieme ai Balrog, questi draghi ridussero la città in cenere. Scata fu invece un drago che infestò le montagne grigie della Terra di Mezzo. Dopo aver seminato caos ed essersi impossessato di grandi tesori, Scata fu ucciso da Eoteod, antenato dai Ruirrim, i signori dei cavalli. Ma il premio di drago più famoso della Terra di Mezzo va naturalmente a Smaug, personaggio che gioca un ruolo molto importante in Lo Hobbit. Noto anche come Smaug il dorato, per via del colore delle sue scaglie, le sue origini e la sua storia prima della conquista della Montagna Solitaria non vengono approfondite da Tolkien. Nell'anno 2770 della Terza Era, Smaug attaccò la Montagna Solitaria, seminando caos e distruzione. Il drago d'oro uccise i nani della Montagna Solitaria, solo pochi riuscirono a fuggire dalla sua furia. Il drago mise poi le sue zampe su un tesoro immenso, fatto di oro, pietre preziose, incluso la meravigliosa Archangemma, e monili di ogni sorta. Per due secoli Smaug fu signore incontrastato della Montagna Solitaria. Ciò che si trovava attorno ad essa divenne noto come la Desolazione di Smaug, in quanto l'area era riarsa e abbandonata. Il dominio del drago d'oro terminò quando la compagnia di Thorin, scudo di quercia, di cui facevano parte anche Lo Hobbit, Bilbo Baggins e Gandalf il Grigio, decise di riconquistare la Montagna Solitaria. Nello specifico, ad uccidere Smaug fu Bard l'Arcere. Il drago infatti possedeva un punto debole nelle sue scaglie impenetrabili. Bard fu in grado di colpirlo proprio in questa zona, ponendo fine al suo regno del terrore. La morte di Smaug segnò anche l'estinzione dei draghi, che scomparvero per sempre dalla Terra di Mezzo. Se Smaug è il drago più famoso, egli non è però né il più potente e nemmeno il più grande. Questi titoli spettano infatti al colossale Ancalagon, noto anche come Ancalagon il Nero. Anche lui fu ovviamente generato da Morgoth, che lo rese il suo drago più potente e pericoloso. Ancalagon fu schierato durante la Guerra d'Ira, il conflitto che contrappose Morgoth agli altri Valar e che segnò la conclusione della Prima Era. Un po' di contesto. Morgoth stava per l'ennesima volta seminando morte e caos nella Terra di Mezzo, facendo strage di uomini, elfi e nani. La sua vittoria sembrava ormai inevitabile, ma Arendil riuscì a ottenere l'aiuto dei Valar, le entità divine più potenti ad essersi incarnate. I Valar, insieme alle schiere dei popoli liberi, diedero quindi battaglia al Signore Oscuro. Le cose per lui non si misero bene e ciò lo spinse a schierare la sua arma più potente, Ancalagon il Nero. Allora, vedendo che i suoi eserciti erano disfatti e il suo potere schiacciato, Morgoth tremò e non ebbe il coraggio di uscire di persona. Scatenò tuttavia contro i suoi nemici l'ultimo disperato assalto con le forze predisposte all'uopo ed ecco prorompere dagli abissi di Angband i draghi alati che mai prima si erano veduti. E così improvviso e rovinoso fu l'attacco di quella terribile flotta che l'esercito dei Valar arretrò, poiché il sopraggiungere dei draghi fu accompagnato da grande tuono, fulmini e tempeste di fuoco. L'arrivo di Ancalagon e degli altri draghi fu appunto contraddistinto da una vera e propria manifestazione di forze della natura, tuoni, saette, una tempesta di fuoco. L'immenso drago, al comando di un plotone e di altri draghi, giunge quindi sul campo di battaglia, seminando il panico. La sua forza era tale che persino i Valar, capeggiati dal valoroso e battagliero Tulkas, dovettero retrocedere, allontanandosi dalle mura di Angband. Quando tutto sembrava ormai perduto, Earendil giunse a bordo della sua nave volante, denominata Vingilot, portando con sé anche numerose aquile guidate dal loro re Torondor. Dopo un giorno intero di combattimenti aerei, Earendil e le aquile ebbero la meglio sui draghi e anche sullo stesso Ancalagon, che venne ucciso proprio da Earendil. L'immenso corpo del drago nero ricadde al suolo, distruggendo un'intera catena montuosa. Ciò ci fa capire quanto fosse immenso questo Ancalagon. La sconfitta della sua arma più devastante segnò la fine di Morgoth, che tentò di nascondersi nei sotterranei della fortezza, venendo poi catturato. Nonostante il suo immenso potere, nemmeno il fuoco di Ancalagon il Nero avrebbe potuto sciogliere l'unico anello forgiato da Sauron, come ci viene raccontato da Gandalf nel Signore degli Anelli. Insomma, i draghi della Terra di Mezzo sono creature di grande potere, ma anche di grande malvagità, essendo appunto strettamente interconnesse alla figura del Signore Oscuro Morgoth. In tutta la produzione tolkeniana non esistono draghi buoni o allineati al bene. Del resto, nel folclore e nella tradizione europea antica, ma anche medievale, i draghi sono figure temute e minacciose. Spesso vengono uccise da eroi, cavalieri e osanti, in virtù della loro pericolosità e malvagità. Ciò non togli che Glaurung, Smaug, Ancalagon e gli altri sono personaggi di grande fascino. Bene signori, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, mi era stato più volte richiesto un contenuto a tema draghi tolkeriani, e quindi eccoci qua. Se il video appunto vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché non attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa preparate i link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!